Rompiamo il patto e questa è l'iniziativa della Lega Nord per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle difficoltà con cui i comuni sono costretti a combattere a causa del patto di stabilità. Oggi c'è stata la presentazione a Milano nella sede consigliare della Lega Nord a Palazzo Marino. Sentiamo allora il segretario della Lega Lombarda, Matteo Salvini. Matteo Salvini, rompiamo il patto, un'iniziativa che la Lega ha fortemente voluto ma che non riguarda soltanto la Lega. Forse qualcosa si muove, forse la Lombardia si sta svegliando. Abbiamo fermi 5 miliardi di euro nelle casse dei comuni lombardi, di destra, di sinistra, di Bergamo, di Brescia, di Milano e di Monza. Roma non ce li fa spendere e i sindaci si incazzano. Ci sono centinaia di iniziative in questo fine settimana, assemblee pubbliche, gazebo, incontri aperti alla cittadinanza per spiegare la truffa che è in corso, che vede Roma e Bruxelles come complici e come collaboratori. Abbiamo risparmiato di soldi e non li possiamo usare. Quindi da Varese a Lissone, a Milano, a Bergamo, a Brescia, alla bassa mantovana, ovunque ci si sta mobilitando e questi soldi o potranno essere spesi oppure i sindaci si rifiutano di continuare a stare lì a fare da esattori per conto di qualcun altro. Quindi è l'ultima iniziativa, l'ultimo tentativo per provare a cambiare con le buone maniere. Quindi concretamente nelle mani dei primi cittadini che armi ci sono con la decisione di rompere il patto? Ormai rimane poco. O le dimissioni e molti sono pronti a dimettersi perché piuttosto che star lì a fare nulla e a fare gli esattori per conto di altri sono pronti a dimettersi oppure forzare la mano tutti insieme. Sul sito rompiamolpatto.org ci sono i numeri della vergogna, i dipendenti pubblici, gli sprechi, gli avanzi di bilancio, quello che la Lombardia fa e potrebbe fare e quello che altri comuni in Campania o in Sicilia invece hanno speso anche se non avevano in tasca. Quindi sono contento che ci siano adesioni sia da destra che da sinistra. Mi invito a esserci, anche nel vostro paese ci sarà un'iniziativa, quindi siateci, siamoci. Più siamo, più proviamo a cambiare con le buone maniere. Se non andrà bene le buone maniere, proveremo con mezzi meno istituzionali. Siamo negli uffici del Comune di Milano che tra ATM, tra lo spostamento dei canali RAI, tra la questione dei case popolari, insomma non è un buon momento. Pisapia parla parla, poi non fa una mazza. Si lamenta di Roma, si lamenta che porti in via la RAI, si lamenta che non hai soldi e poi però non partecipa a queste iniziative di disubbedienza. Quindi la sinistra governa Roma, controlla la RAI, governa Milano, governa Brescia e si lamenta ma poi si tartasse e ci tartasse. Quindi di Pisapia dopo due anni e mezzo di amministrazione penso tutto il peggio possibile per come è ridotta la città. Non aggiungo altro. Grazie. Grazie.